Credo che bisogna considerare con attenzione quello che si è fatto e si sta facendo, come per esempio il fatto che dovrebbe non costare nulla praticamente di fatica e di soldi far nascere un'impresa. L'auspicio di Napolitano, sbantellare la corsa ostacoli con cui hanno a che fare tutti i giorni i giovani, giovani come gli imprenditori riuniti a Napoli per l'annuale convegno, la platea scelta da Napolitano per commentare in una videointervista con il direttore del Sole 24 Ore la manovra del governo. Il presidente sottolinea la positiva ricaduta sui mercati e sullo spread della legge di stabilità, ma mette condizioni ben precise, quasi delle istruzioni per l'uso in vista dell'iter parlamentare. La categoria del coraggio facile. Il coraggio facile è quello del dire bisogna fare di più, non bisogna temere di fare di più, tutto questo però è molto retorico e bisogna stare attenti a evitare che coraggio troppo facile non significhi poi coraggio poco responsabile. Sul taglio delle tasse in particolare il presidente è molto prudente. Non è tanto di vedere quanto si sia stanziato o se si dovesse e potesse stanziare di più per ridurre il prelievo fiscale sulle imprese e sul lavoro. Il problema è di vedere nell'insieme su quali risorse possiamo contare seriamente senza inventarci delle coperture fasulle sulla spesa dello Stato. Poi l'iniezione di fiducia alla plattea dei giovani imprenditori. Abbiamo superato momenti più drammatici, rincuora napolitano. Lo faremo anche ora per ridare all'Italia capacità di sviluppo. Occorre puntare sulla crescita, a verte, al nord come al sud, ma mantenere alta l'attenzione ai conti pubblici perché il paese a cui tutte le forze sociali, culturali e politiche hanno il dovere di dare fiducia, non ricada nel deficit. Un rischio, conclude il capo dello Stato, che è una preoccupazione giusta del governo e che non possiamo correre. Non una parola, nella videointervista, la citazione è arrivata dalla Corte di Astizia di Palermo. Napolitano dovrà testimoniare, nei limiti fissati della Corte Costituzionale, a proposito di una lettera del suo consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, a lui indirizzata nella quale si faceva riferimento a indicibili accordi. Il tema della lettera e del processo parlamentano è la trattativa Stato-mafia. La convocazione del Presidente mi sembra inusuale, ha commentato una perplessa a Cancellieri. Valuteremo l'ordinanza nel massimo del rispetto istituzionale, ha commentato per il momento in una nota il Quirinale.